Musica Ragazzi, ultimamente ho notato una cosa Le persone che guardano i miei video non sono poche Però le persone che invece lasciano like sono sempre di meno E mi sono chiesto, è perché non li prende? È perché la gente si dimentica di metterli? È perché i miei video non piacciono? Voglio vedere ragazzi, se adesso voi mettete tutti un bel mi piace Quanti siamo che effettivamente guardiamo il video Sono molto curioso di questa cosa Quindi lasciate un bel pollicione verso l'alto Che poi sapete da anche molto piacere E ci vediamo nel video che mi raccomando è molto bello Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale Con un nuovo sniping in live su Black Ops 2 Siamo su Tarbine e vediamo cosa riusciamo a combinare Come sempre col DSR raga Come secondario al PDV però non lo userò Cioè molti mi dicono eh midi non ha senso così il PDV come secondario o via così Secondo me non ha senso quello che dite perché È come se avessi una B23R un po' più forte Cioè mi sono messo una secondaria che mi può aiutare magari in situazioni di difficoltà Ma userò principalmente il check-in Cercherò di fare comunque qualcosa di buono Cioè che non è questo Aspettate un attimo che devo un attimo mirarle perché Cioè minchia gli usciva solo la testolina proprio un mezzo millimetro Ok va bene con calma Come voi tutti ben sapete ormai Chi mi segue da No maledizione eravamo partiti bene ci hanno ucciso subito Chi mi segue da un po' gli sniping in live ne ho fatti più di 50 Chi mi segue sa che su Tarbine tutti gli sniping in live che ho fatto me la gestisco sempre qua su Perché si ha il controllo totale Dai Di tutta la mappa da qua sopra E quindi ecco diciamo il posto un po' Migliore a dove giocare Meno male che non mi ha visto Questo ci lo ha tutti intorno e anche da dietro Mamma mia che fastidio quando cambiano gli spawn Ma che caccia Vi sembra il modo di giocare se è anche livello alto Vabbè 7 kills le abbiamo fatte per ora Continuiamo così raga che proviamo a farne sempre di più Quanti cavolo sono là E qua è difficile Qua è difficile perché sei sottotiro da 3 cecchini Hit marker Collateral Hit marker e che due coglioni Hit marker Regà mi ammazzo Ok Ci ho fatto 3 hit marker 2 hit marker nel giro di 3 secondi con il DSR Che non è neanche proprio un'arma da hit marker diciamo Ce l'ho fatto 10 kills su 14 I miei compagnini hanno fatto 4 Ma c'è cosa Perché stava sparando lì a caso quello Che culo ha Stava proprio sparando a caso dentro la casetta Io sono un comparso come un imbecille Ma ha preso Allora adesso Ti puni Ti punisco se ci riesco Ok Non l'avevo visto Ok l'ho preso Più che altro su tarbine L'unica cosa che non mi fa impazzire di questa mappa Anche se mi piace molto giocarla col cecchino Perché come detto si hanno molte zone da tenere sotto controllo La cosa che non mi piace È che non si ha L'occasione di fare Bei quick Belle cose Cioè col cecchino Diciamo un po' da pro Perché comunque È una mappa molto aperta Molto ampia E ci si trova nella maggior parte dei casi A dover Fare delle mirate assurde Perché i nemici sono lontani E questo è un po' Chi m'ha ucciso e da dove? Oh madonna santa Proprio lì dietro con la testolina Abbiamo già fatto 15 morti Però anche 5 morti Però abbiamo fatto anche 15 kills Quindi Non so L'ho lisciato Ce l'ho dietro Laggo No Non va raga Eravamo partiti molto bene Poi pian pianino col tempo ci siamo un attimo affievoliti Devo un attimo riprendere il ritmo che ho perso E quindi vediamo un po' Io salgo qua sopra adesso Ok Devo capire loro dove si mettono Perché comunque è una mappa piena di head glitch e tutto Fermi tutti Ragazzi ci tenevo un attimo velocemente A sponsorizzare il ragazzo che mi ha fatto Avatar e BG del canale Ci tengo davvero molto che gli date una gioia Perché sono davvero molto molto belle Trovate il suo link in descrizione Non fate altro che cliccarci Andare su Lasciare un'escrizione Guardare un po' i suoi video Merita davvero molto ragazzi Riprendiamo con i video Sì vabbè Lagga un po' di più Va bene Ce l'ho dietro Mi ha mancato col cecchino No mi ha mancato col pompa Che culo Va bene Con molta calma raga Non devo giocare con fretta Perché di fretta muoio e basta Quindi adesso devo stare attento Di qua adesso sono nati Quindi lì ce n'è uno che ho visto Ok Da qua arriva qualcuno No Sì No Dentro Non c'è nessuno Però c'è qualcuno di là No ce l'ho sotto Ok Un bel UAV che ci può sempre fare comodo Prendiamo un attimo Lo sapevo che sarebbe tornato utile Perché così Dalle corte distanze Non ha molto senso Usare lo sniper Perché ci si ritrova Sempre in situazioni stupide Di uno contro uno Che non si possono Vincere C'è gente davvero Che gioca ancora nel 2016 Quasi 17 Con la EMP Siamo seri 23 bombe abbiamo fatto E' senza la 40 Ancora tante kills per noi Raga Potrebbe anche tornarmi la minimappa Ok Dove sono? Uno qua E uno qua Ok Siamo a poco dell'elicottero Proviamo ad arrivarci Sarebbe molto utile Quindi prendiamo un attimo Il nostro PDV E buttiamoci dentro Sto facendo un commentary Un po' così Ma sono molto Molto concentrato Non mi chiedete il perché Oddio raga Come l'ho preso Per prendere l'elicottero Che colpo Vorrei dire da maestro Ma penso sia più adatto Dire di culo Va bene C'è di qua E di qua E di qua No No Lagga tutto Laggo Laggo Non gli entrano i colpi Raga Incredibile No è lui che lagga Madonna io quelli che lagga Raga gli bannerei tutti Quelli che laggano Perché comunque C'è solo un vantaggio per loro Perché questa sarà stata una kill facile Per me invece no Ha laggato purtroppo Vai elicottero Scatenati Fresco Va bene Andati dietro 100% infatti Eccoti qua Va bene Raga il DSR Su sta mappa è una bomba Questa combinazione È davvero fenomenale Vediamo se diciamo D'arrivare alle 40 kills Sarebbe davvero Fantastico per me Però non lo so Lì c'è Ok Cazzo Sto 3 spider È un rompiminchia Sempre da dietro Mi arriva Poi mi sbaglia anche qui In maniera clamorosa Chissene delle morti Che sono un po' tante Però finché facciamo tante kills Sono contento Voglio arrivare a 40 Assolutamente raga Assolutamente Siamo a 38 39 Dai manca una kill Una maledetta kill Siamo a 67 Voglio arrivare a 40 Dai elicottero Ho visto Kate Markery Falla 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 Qua sono tutti di là Però Sono tutti lì Oh Ok 40 41 42 Buono Dove cazzo corri te Col Mitraglione Dammi il balista Che ho finito Il caricatore del DSR Non ho voglia di ricaricare Dai manca solo la kill Il can perfetto raga 43 8 Mi hanno fatto 43 Bombe cattivissime Su deathmatch Sono contento Col cecchino Mi è piaciuta molto Mi è piaciuta molto Soprattutto perché Abbiamo fatto tante kills Raga Io spero davvero Che questo sniping in live Vi sia piaciuto Se così Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Un commento Che fanno sempre molto molto piacere Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Noi ci vediamo come sempre domani Con un nuovo video Per oggi da Dammi il giorno è tutto E bella